Noi dobbiamo portare l'Italia fuori dall'incubo del Covid e ridare agli italiani la libertà di vivere. E la nostra regione vuole fare la propria parte, anche con questo Goa & Vax, che è un'ennesima opportunità per vaccinarsi. Vogliamo viaggiare e riempire di nuovo gli aeroporti e le mete turistiche senza l'ossessione del rischio di poter salutare o stringere la mano a qualcuno. Grazie veramente a DR, lo voglio sottolineare, perché questa forma di collaborazione in questa regione ha fatto la differenza. Quindi grazie davvero e speriamo che l'Europa segua questo esempio. Oggi si inaugura il primo aeroporto in Italia, il primo centro vaccinale integrato nel Terminal. È un centro vaccinale che ha la possibilità di essere utilizzato senza improntazione, è una logica di free flow. Ogni passeggero potrà venire qui e liberamente decidere di vaccinarsi con Pfizer, Moderna o anche il monodose Johnson & Johnson. È un invito a vaccinarsi, è un invito a viaggiare, è un invito a vivere, a riprendersi la propria libertà, a rispettare la propria salute ma anche la risulta degli altri.